a C'era una famiglia di italiani a Disney World Parigi, hanno chiesto la carbonara e non ce l'hanno Ah si è vero che l'hanno denunciato, ma era in Svezia, era in Svezia Cazzaro, cazzaro, si è fatto 5 giorni di gattabuia, con il papà Calabrese si è fatto 5 giorni di gattabuia